Nel fin di settimana con un ministro di turismo, salubrità e deporte, e, specialmente, deporte, non sarà così atto di presenza nel inizio di campionato, d'autatratto, di inizio di campionato di ABB, Arrumba Basketball Bond, che è stato un luogo del complejo deportivo nel Sport Hall di Santa Cruz. È stato un buon appetito che è stato un luogo, la banda di azale che è stato invitata per l'apertura di Arrumba Lettelic, che è stato un luogo nel Eiffel di Crismo Angela, ex-Winston, un complejo deportivo, per certo, il governo anterior di MEP per curare per l'Etei Ave, un buon appetito, è stato un buon appetito, è stato un buon appetito, è stato un luogo di campionato per i familiari del signor Braulio Wester, che è in paz e descansi, ci sono anche il primo pitch, ci sono stati la prima bala, ci sono stati l'apertura, è l'apertura ofiziale nel campionato di Lettelic, ci sono chiesti di encourage, il più grande di cui ci sono presenti, ci sono stati qui, per il bianco, ci sono stati stimolati per il deporte, motivati per il deporte, per sovra più di questo deporte, e ci sono stati molto, ci sono stati iniziati per il nostro ministro, per invertire le placi nel deporte, mantenere facilità, costruire facilità, aiutare la federazione, aiutare la camina nel sport, per assinare il deporte, che sia il luogo per il MRC. Grazie a tutti!